E' bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Giuseppe, oggi ragazzi ho intenzione di fare uno scherzo a mio cugino Pasquale, il proprietario di questo canale. Come potete vedere sono sul suo account di Fortnite e già potete capire che voglio fargli un bello scherzetto. Lo scherzo consiste che gli farò credere che un hacker gli sia entrato nell'account, lui adesso è a scuola calcio e verrà tra un'ora. Ragazzi, iniziamo con lo scherzo, togliamo... Ragazzi, per voi sarà passato tipo un secondo, ma per me un'ora, mezz'ora, mezz'ora sicuro per togliere tutto questo. Ma non sono riuscito a togliere la preimpostazione, perché se per esempio... non me la fai eliminare, non so perché. Comunque Pasquale è venuto, sta di là. Adesso io lo chiamo. Aspettate un attimo. Pasquale, 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 Pasqua, vieni un attimo, ho aperto il tuo account, guarda cosa è successo, non c'è niente più. Non c'è niente più. Non c'è niente più. Non c'è niente più. Pasquale, non è colpa mia, ti ha hackerato. Che ne so. Ti ha anche urlato tua nonna, Pasquale. Pasquale ti ha hackerato. Pasquale, calmo, calmo. Adesso ti dico tutta la verità. ehm PENK WAR PENK una cuffia no no mi metti le cuffie tanti allora me la pagherò a Giuseppe me la pagherò ehm niente ma Giuseppe la deve pagare perché altrimenti lo piccio proprio avete capito? voglio lasciare un po' in casa non ti preoccupare già l'ho detto lasciate il pollicione comunque ragazzi se il video vi è piaciuto condividetelo eh no non mi è piaciuto eh vabbè a te no a me si condividete questo video se vi è piaciuto con i vostri amici condividetelo con i vostri amici se vi è piaciuto ragazzi da noi è tutto e